Si conclude la grande avventura delle Amaranto Under 17 e dell'Arezzo Calcio Femminile che si sono piazzate quarte nella Final Four nazionale, un risultato storico che rimarrà negli annali della storia della società Amaranto. Nonostante due sconfitte, c'è sicuramente da applaudire le ragazze Amaranto per aver sfiorato la finale contro un'ottima Juventus ed aver tenuto testa alla Roma. Sono molto orgoglioso, ha detto il presidente Anselmi di questo finale di stagione disputato dall'Under 17, di fatto un premio a tutto il settore giovanile. Il bilancio è sicuramente eccellente perché hanno raggiunto grandi risultati in ogni categoria. La primavera disputerà anche il prossimo anno il campionato Primavera 1, l'Under 17, arrivata tra le prime quattro d'Italia. L'Under 15 ha avuto una crescita esponenziale vincendo la Coppa Toscana contro la Fiorentina. Un plauso anche alle più piccole, Under 12 e Under 10, che stanno creando futuro oltre alle vittorie nei tornei di categoria. Il dato più importante è proprio questo, conclude Anselmi. 14 bambine che hanno iniziato a giocare a calcio e lo hanno fatto indossando la maglia dell'Arezzo.